Alessandra Celentano come Nikita Pelizzon, Cristiano ad Amici scatena i fan. Alessandra Celentano come Nikita Pelizzon. Cosa hanno in comune la professoressa di Amici e la concorrente del grande fratello Vip? Secondo Cristiano Malgioglio le due hanno un look molto simile. Sarà, forse, perché la Celentano ha deciso di sfuggiare, durante lo scorso appuntamento del talent show condotto da Maria De Filippi. Una parrucca color verde, lo stesso colore dei capelli di Nikita. Ma andiamo con ordine. Il look di Alessandra Celentano, dunque, a Malgioglio è sembrato molto simile a quello della Vipona Nikita e il dettaglio non è sfuggito neppure ai fan del talent. Dato che Malgioglio ha sottolineato la somiglianza tra le due durante la diretta televisiva, ma Io vedo lei e mi sembra Nikita, ha detto il cantautore ottenendo l'approvazione del pubblico da casa. Ma c'è dell'altro. Perché, dopo aver nominato Nikita, Malgioglio si è subito corretto continuando così la frase, Nikita. Punto la protagonista del film famoso, facendo così riferimento alla pellicola del 1990 di Luc Besson. La correzione, tuttavia, non ha convinto i telespettatori, che hanno commentato il divertente siparetto sui social. Ma è palese che si riferisse alla nostra Nikita Pelizzon. Dai, sono identiche. Ha scritto un utente. Alessandra Celentano ci ha fatto capire così chi vorrebbe vincesse il GF VIP, ha ironizzato qualcun altro. Sal pure. Salto il GF VIP. Salto il GF VIP. Ho шcuto il GF VIP. Grazie.